cominciamo alla seconda parte di questo tutorial dove c'eravamo lasciati con la prima parte allora io adesso ho fatto tutti i punti bassi intorno alla circonferenza inferiore e ho aggiunto due catenelle ho aggiunto due catenelle per far sì che quando mettiamo il cordino ci sia un minimo di distanza tra una parte e l'altra ma deve essere proprio minima entro nella prima maglia di inizio così poi faccio una catenella e dopo di che parto a fare il motivo a ventaglietti quindi salto due maglie di base nella terza faccio 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte da questo momento in poi chiaramente come avete capito la lavorazione prosegue in tondo perché io ho chiuso il mio pezzo quindi abbiamo il pezzo totalmente chiuso e quindi la lavorazione prosegue in tondo se volessi fare un top chiaramente questa questa aggiuntura non dovrei farla dovrei lavorare su due pezzi separatamente quindi sempre in giri di andate e ritorno invece in questo caso visto che facciamo un vestito e che quindi da questo momento in poi ho iniziato a lavorare la parte della del busto della gonna possiamo tranquillamente chiuderlo e lavorare in tondo quindi io sono ripartita con il mio motivo ventaglietti come vi ricordate probabilmente dalle maniche adesso faremo due giri perfettamente uguali di ventaglietti come quelli che sto facendo adesso quindi salto 2 maglie di base nella terza faccio 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte poi salto ancora 2 maglie di base e nella terza faccio 3 maglie alte scusate una maglia bassa poi ancora salto 2 maglie di base e poi 1 2 e 3 1 2 1 2 e 3 salto 2 e faccio un punto basso e così proseguo fino alla fine del giro quindi tutto poi ricomincerò con il secondo giro di ventaglietti poi lavorerò le catenelle così come avevamo fatto sul merlettino delle maniche e poi dopo proseguirò con i punti alti negli archetti che si vengono a formare con le 10 catenelle allora a questo punto direi che vado avanti un po poi magari più avanti riprendo la registrazione e vi faccio fare un ripasso dei delle diverse righe del motivo perché così se l'avete sempre a portata di mano fino al punto in cui come ho annunciato nella prima parte del tutorial non vedremo il il motivo leggermente modificato per permettere per far sì che sia meno trasparente nella parte del del basso ventre e della zona inguinale quindi adesso proseguo e ci rivediamo poco prima di iniziare la modifica del motivo intanto questo è il risultato a dopo come vi dicevo sono andata avanti un po ho fatto diversi motivi adesso ne facciamo uno insieme e poi iniziamo la modifica che riguarda la parte centrale della gonna allora ho fatto i due ventaglietti poi il giro di catenelle e il giro di maglie alte a questo punto io ho iniziato con i ventaglietti così come c'eravamo lasciati diversi motivi fa per farvi vedere come fare ad andare al centro del ventaglietto per poi iniziare il secondo giro quindi io mi sono unita all'inizio del giro con un punto bassissimo poi sempre a punti bassissimi mi muovo fino al centro dell'archetto quindi quello dove andrò a fare poi i punti dell'archetto successivo faccio 3 catenelle e poi avvio il mio ventaglietto sempre 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte e poi come abbiamo fatto per il top quindi il secondo giro di ventaglietti lavorando in piano però quindi non in tondo vado avanti senza fare nessuna catenella di separazione quindi mi sposto al centro dell'archetto successivo faccio le mie 3 maglie alte poi le 2 catenelle e ancora le 3 maglie alte e così vado avanti per tutto il giro il prossimo giro vi ricordo sarà quello delle catenelle ma poi lo vediamo insieme anche in quel caso lì per muoverci per spostarci al centro dell'archetto utilizzeremo sempre le maglie bassissime adesso andiamo avanti un po insieme e poi io proseguo fino alla fine del giro ricordiamoci sempre 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte questo è il secondo giro di ventaglietti adesso inizio a fare io arrivo alla fine del giro e poi facciamo insieme le catenelle finito anche il secondo giro di ventaglietti ma vi dicevo ci dobbiamo spostare sempre al centro del ventaglietto per poi fare le catenelle e lo facciamo esattamente nello stesso modo che abbiamo utilizzato prima adesso faccio 3 4 5 6 7 8 9 e 10 in ogni ventaglietto faccio un punto basso 5 6 7 8 9 e 10 quindi dove ci sono le due catenelle nel ventaglietto faccio un punto basso e aggancio le mie 10 catenelle 7 8 9 e 10 4 5 6 7 8 9 e 10 e mi aggancio al ventaglietto ecco questo è il risultato come vedete abbiamo fatto le nostre catenelle e adesso io vado avanti per tutto il giro finito pure il giro di catenelle a questo punto dobbiamo fare i punti alti allora io mi sposto sempre con delle maglie alte all'interno delle catenelle un po più verso il centro del dell'archetto faccio delle maglie basse dopo di che ricomincio con 3 catenelle e poi in ogni archetto di 10 catenelle vado a fare 6 maglie alte 4 5 e 6 e ho praticamente un giro tutto di maglie alte che replicherò adesso per questo per questo particolare pezzo come vi dicevo per renderlo meno trasparente altre due volte quindi farò tre giri di maglie alte il terzo giro di maglie alte ve lo anticipo lo utilizzerò per gestire gli aumenti della gonna perché chiaramente la gonna sul fianco si deve allargare un pochino e quindi io utilizzerò questo questi giri di maglie alte per gestire gli aumenti che dovranno essere sempre in un numero multiplo di 3 1 2 3 4 5 6 nel frattempo mi ero persa e quindi adesso ho dovuto contare 2 3 4 5 e 6 per il secondo giro di maglie alte poi lo vedremo utilizzeremo una tecnica che fa sì che i punti siano tutti incolonnati quindi che non ci siano spostamenti diagonali dei punti alti il terzo giro invece non è necessario perché poi è l'ultimo e dopo riprendiamo con il motivo 2 3 4 5 e 6 e anche qua vedete abbiamo fatto il le sei maglie alte quindi abbiamo concluso il motivo i due giri di ventaglietti il la catenella e le sei maglie alte quindi abbiamo concluso il motivo adesso quando iniziamo il successivo noi inseriamo con due giri di maglie alte proprio per il motivo che vi dicevo di renderlo trasparente sulla zona diciamo dei fianchi adesso finisco questo giro poi iniziamo insieme il successivo iniziamo adesso il giro di punto alto che vi dicevo allora adesso facciamo due catenelle e poi rientriamo nello stesso punto prendendo la solina davanti così e facciamo un punto alto questo ci vale un punto alto dopo di che come avevamo fatto per i pantaloncini perché ho visto il video prendiamo i due le due soline dietro quindi non ci limitiamo a prendere queste davanti laterali ma andiamo dietro e prendiamo la solina che si trova incolonnata aspettate un attimo che quasi incastrato che si trova incolonnata proprio su sul punto così vedete in questa maniera praticamente noi il punto lo teniamo incolonnato a quello sotto e non abbiamo diciamo il rischio che lavorando in tondo il lavoro si sposti che è un effetto che a me non piace e cercavo di eliminare come vedete sto lavorando soltanto sulla costa posteriore lavoro sulla costa posteriore modo che faccia anche un po di disegnino davanti e mi limito a fare questo per tutto il giro guardate lo rifacciamo insieme quindi io entro nel punto e vado proprio nell'angolino infilo l'uncinetto se lasciate il punto morbido l'uncinetto entra da e così proseguiamo per tutto il giro una volta finito questo faremo un giro di punti alti in cui andremo a distribuire gli aumenti che vi ricordo devono essere sempre moltipli di tre ecco vedete io vado avanti così per tutto il giro ci vediamo poi alla fine del giro ho finito anche questo giro allora vi dico una cosa che io in questo giro poi alla fine ho deciso di fare un punto alto allungato che non so se conoscete lo vediamo insieme un paio di volte allora faccio un punto alto normale entro dentro la solina prendo il filo sull'uncinetto e tiro fuori la solina sfilo via una solina sfilo via due soline sfilo via ancora due soline invece con la normale così filo sull'uncinetto sfilo due asole sfilo due asole rifacciamolo allora filo sull'uncinetto tiro sull'uncinetto tiro la solina dentro filo sull'uncinetto sfilo una sola sfilo due asole e sfilo le ultime due asole ancora filo sull'uncinetto sfilo una sola filo sull'uncinetto sfilo due asole filo sull'uncinetto sfilo due asole vedete viene un po più allungato rispetto al punto alto normale che questo qua diciamo che è semplicemente per allungare un pochino il bordino quindi la parte coprente allora invece questo qua lo farò con i punti normali quindi andrò a lavorare normalmente ho contato 162 maglie devo fare 9 aumenti quindi diciamo che ogni 17 maglie farò un aumento quindi una due tre quattro 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 faccio l'aumento lo faccio qua così quindi due maglie nello stesso punto e faccio così per tutto il giro voi ovviamente contate se non servisco a contare tutti i punti basta che contiate gli archetti moltiplicati per 6 perché se sono le maglie alte che faccio meno di archetto e così avrete il numero di punti alti del giro dopodiché li dividerete e farete in modo da avere i nome aumenti che vi dico per questa cosa la farò per quattro volte adesso ci rivedremo perché questa fascia qua ha un'altra variante che vedremo dopo le dopo i giri dei ventaglietti quindi dopo i giri dei ventaglietti le 10 catenelle diventeranno 6 le vediamo poi un attimo insieme così abbiamo finito questo questo diciamo questa variante al punto e dopodiché sappiate che lo potete ripetere io lo farò o tre o quattro volte voi ovviamente lo potete ripetere tutte le volte che volete per poi tornare al punto originale ho finito i miei due giri di ventaglietti e sono andata avanti facendo il giro di catenelle a questo punto cosa facciamo facciamo che anziché fare le 10 catenelle che poi lasciano questo spazio molto ampio ne facciamo soltanto 6 che corrispondono al numero di maglie che andremo a fare lo spazio comunque rimane però è sicuramente molto più ridotto quindi ne facciamo 4 5 e 6 e andiamo a fare il punto basso così come prima esattamente come prima nell'archetto nelle due catenelle dell'archetto e 6 1 2 3 4 5 e 6 e qua ci ricongiungiamo all'inizio poi come abbiamo visto qua ci spostiamo soltanto di 1 perché le maglie corrispondono al numero di catenelle e andiamo a fare 1 2 3 4 5 e 6 maglie alte passiamo a quello successivo e facciamo 6 maglie alte allora prima ricapitoliamo per quanto riguarda il motivo più coprente facciamo questo giro di maglie alte poi facciamo un giro di maglie alte allungate prendendo le asoline dietro del punto in modo da farlo venire dritto e poi facciamo il giro di aumenti a proposito del giro di aumenti volevo dirvi una cosa perché io vi ho dato il numero di aumenti quando si lavora in linea in realtà noi stiamo lavorando in tondo quindi gli aumenti devono essere multipli di 6 quindi gli aumenti li ho fatti 12 non 9 mi scuso per l'imprecisione e vi riparisco che gli aumenti devono essere multipli di 6 non multipli di 3 detto questo appunto finito il terzo giro quindi quello con gli aumenti ripartiamo con gli archetti quindi con i ventaglietti poi facciamo le 6 catenelle anziché le 10 catenelle poi ricominciamo a fare i punti alti, i punti alti allungati il giro di punto alto con gli aumenti questo lo facciamo per 3-4 volte in base a quanto vogliamo coprente la fascia della parte dei fianchi dopodiché riprendiamo con il punto normale che come sapete è fatto da 2 file di ventaglietti una fila di 10 catenelle e poi le 6 maglie alte e si ricomincia di nuovo ovviamente la lunghezza del vestito dipende esclusivamente dal vostro gusto io ho intenzione di utilizzare tutto il filato fino alla fine anche se viene lungo mi piace molto perché comunque rimane un po' stretto ma comunque la voglio lungo io adesso proseguo con il mio lavoro e poi ci vediamo alla fine per il risultato finale ecco il vestito terminato so che non potete vederlo tutto per intero però adesso ve lo racconto un pochino allora io sono andata avanti ho fatto 3 fasce di quelle un po' più coprenti e poi ho fatto ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri di ventaglietti il vestito come vedete dalla foto della miniatura è abbastanza lungo quindi potete anche fermarvi prima diciamo che l'ultima parte per cui ho utilizzato l'ultimo gomitolo sarebbe anche potuta essere superflua per il fatto che quando ho finito il quarto gomitolo il vestito arrivava sopra il ginocchio quindi poteva anche essere tranquillamente indossato io come vi dicevo volevo un vestito lungo particolare che non passasse assolutamente inosservato quindi sono andata avanti e ho fatto gli altri motivi allora io relativamente al corpetto volevo farvi vedere una cosa perché non so se era chiaro nella spiegazione di prima per cui volevo essere assolutamente sicura che fosse chiaro il concetto allora per quanto riguarda la cucitura del merletto questo va fatto sulla parte laterale della coppa che va diciamo a contatto con l'ascella quindi voi fate il merletto poi la parte dritta va cucita e questo ve lo faccio vedere meglio la parte dritta va cucita sul laterale della coppa laterale naturalmente esterno quello che scende diciamo verso l'ascella in modo da avere questa continuità dalla manica quindi sul braccio avete il braccio e poi gira tutto dietro e fa il volant anche sulla parte posteriore qualora non dovesse essere chiaro qualche passaggio aveste bisogno di ulteriori informazioni o di delucidazioni cose di questo genere io vi chiedo gentilmente o di lasciare un messaggio qua sotto nei commenti del video oppure di scrivermi sulla pagina di facebook il cestino dei tesori maioncinetto io ovviamente vi risponderò a tutte le domande e se dovesse essere necessario come è successo anche in passato fare una aggiunta al tutorial quindi una parte separata in cui spiego determinati passaggi che sono un po' più complicati lo faccio volentieri questo è un progetto che non è diciamo non vorrei dire che è difficile perché non c'è nulla di difficile è articolato perché appunto noi dobbiamo costruire separatamente le due coppe poi dobbiamo costruire merletti dopo dobbiamo fare le bretelle quindi diciamo che ci sono diversi passaggi per arrivare al risultato ovviamente più sono i passaggi è più come posso dire soddisfacente il risultato infatti vediamo un vestito che sicuramente come vi dicevo non passerà inosservato è un vestito molto molto bello che può essere declinato in diversi modi lo potete fare corto lo potete fare lungo lo potete fare un po' più largo se non volete che vi fasci la zona dei fianchi potete fare soltanto il top potete fare anche solo la gonna volendo io sinceramente non la vedo come opzione però il punto può essere tranquillamente utilizzato per fare una gonna pareo da indossare in spiaggia io con questo credo di avervi detto tutto il tutorial vi ricordo che consta di due parti quindi la prima parte è quella in cui faccio vedere il corpetto questa è la seconda e ultima parte in cui vi mostro come realizzare la gonna vi lascio al vostro lavoro adesso spero che il progetto vi sia piaciuto e spero che se non lo avete ancora fatto vi iscriviate al canale per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti grazie e alla prossima